Musica Benvenuti ad Un Bosco Attack! Oggi costruiremo dei biglietti tridimensionali. Quello che ci serve, due cartoncini della stessa misura, dei fondi colorati, forbici in fronda, una matita, dei pastelli. Fai due taglietti a metà della piega per creare una linguetta. Piegala in avanti e appiattisci la vena. Spingi la linguetta attraverso la piega. Poi richiudi il biglietto e appiattisci la vena con le mani. Apri il biglietto. La linguetta formerà un tubo. Disegna e ritaglia la farfalla e decorala come più ti piace. Pagli. 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 piega in due l'altro cartoncino e colla lo su bene, decorate il biglietto come volete e divertitevi a inventarne altri per stasera abbiamo finito alla prossima ma che bello questo Don Bosco attacca i biglietti tridimensionali davvero eccezionali ecco, ne ho fatto uno anch'io è un biglietto molto originale cosa ne dite?